Sì, sì. Eccoci. Sembra una vera principessa. Maya, tutto bene? Possiamo aiutarti? Ci penso io. Non voglio restare rinchiusa perché sono una principessa. Potrei essere una grande guerriera aquila. Questa non è un posto per una ragazza! Tanto cacà! Pericolo in arrivo. Tu devi rispettare la vera profezia. Oh, princesa Maya! Vieni qui a giocare! Ma che... Il raggio scorra nelle tue vene, principessa. Sono la principessa Maya! Aquila barriera di Gaia! Se così deve essere, ora tocca a me. C'è una parola per le persone che fanno delle azioni eroiche? Eroiche. Morte. Sì, la parola è morte! A presto! Staiourt. La parola è morte. Tutto di la sua vita. Questa è tutta la sua vita. LiteT utanلي. Se 보여드�れる approcciamento. Che for me, non basta, da sé a me! Un bambino mi piace di nutzen. L'arte molto ära, ma il pe nya city. È una parte la sua vita più Israel. No, non, amai, va a me, che... Grazie a tutti.